partete al comando si porta Carty Manduka nei confronti di Katherine Piper in terza posizione all'esterno Lady Jungle all'interno è Manga Jambu con in coda Serry Comet Cavalli ora a lungo l'arco della curva con Carty Manduka che prosegue in vantaggio davanti a Katherine Piper con all'esterno Lady Jungle poi ancora in quarta Manga Jambu ed in coda Serry Comet Cavalli all'ingresso in retta di arrivo con Carty Manduka lo steccato Caterine Piper al suo attacco più all'esterno si profila Lady Jungle mentre per linea interna rimane appostato Nanga Jambu più indietro Serry Comet siamo a 350 dal palo con Caterine Piper che attacca a fondo Carty Manduka i due sono in lotta all'esterno dei due si profila ora Nanga Jambu sta passando Caterine Piper nei confronti di Carty Manduka all'esterno Nanga Jambu nel tratto finale Caterine Piper in leggero vantaggio nei confronti di Carty Manduka sul palo Caterine Piper su Carty Manduka e Nanga Jambu andiamo a rivedere le immagini con Carletto Fiocchi in sella Caterine Piper numero due dello schieramento a bersaglio in questa prima corsa di Agnano al posto d'onore il numero uno Carty Manduka al terzo il quattro di Nanga Jambu quindi due uno quattro il probabile ufficioso arrivo della prima corsa di Napoli Grazie a tutti